Come la pioggia è il nuovo romanzo di Eleonora Benedetti, edito da Aracne Editrice, che racconta l'amore, l'amicizia e la perdita, ma anche la trasformazione che sperimenta chi ha il coraggio di attraversare il dolore. Claudia Grieco è una psicanalista e scrittice di successo. Da anni vive a New York, dove cerca di allontanare un passato che le tortura l'anima. Dopo la morte del marito, la sua unica figlia scopre un'amara verità e decide di troncare ogni tipo di rapporto con lei. Claudia va via da Roma per non farvi più ritorno, ma la telefonata della sua migliore amica la riporta indietro nel tempo, facendole capire l'impossibilità di archiviare definitivamente ciò che si è stati. La tanto amata prof, incontrata negli anni bui del collegio, dove studiava chi come lei era sola al mondo o chi non aveva una famiglia in grado di occuparsene, sta morendo di cancro e le chiede di tornare. Ha bisogno di Claudia per portare a termine prima di morire qualcosa di cui lei non sa nulla. L'ex allieva prende il primo volo e capisce di aver fatto la cosa giusta quando abbraccia la donna, che tanti anni prima l'ha salvata dalla disperazione. Quello che le chiede la donna è punto di morte e di fare la stessa cosa con Asia, adolescente ribelle e problematica con la musica nel sangue. È l'onora Benedetti e di Trevi, nella provincia di Perugia. Ha iniziato a scrivere fiabe e filastrocche fin da bambina. Nell'estate del 2007 scrive una commedia in dialetto locale intitolata Il Testamento, ispirata all'omonima canzone di Fabrizio De Andrè. Ha collaborato con testate locali, conciliando questo impegno con il lavoro di impiegata e con il ruolo di mamma e moglie, come La pioggia e il suo primo romanzo.